Musica Buonasera, nuova edizione del TG Veneziano. Ieri per la festa della liberazione alza bandiera e celebrazioni in tutto il territorio veneziano. A Venezia si è festeggiato anche il patrano San Marco. Tre sono stati gli appuntamenti principali. A San Marco la cerimonia dell'alza bandiera aperta dalla lettura di un messaggio del ministro della difesa e proseguita poi con gli onori resi dal picchetto militare Interforce. Cerimonia anche in piazza Ferretto a Mestre e nel sestiere di Canareggio. Invece si è ripercorso il percorso della memoria che ricorda ebrei e partigiani deportati. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha voluto ricordare che la bandiera con il leone alato è l'unica al mondo su cui figura la parola pace. A Mirano, sempre ieri, presenti in piazza la più longeva festa dei fiori dell'entroterra veneziano. Da piazza Martiri, lungo le vie del centro storico, Fiori a Mirano, ha presentato oltre 120 espositori vivaisti. Novità di quest'anno, uno speciale allestimento nell'ovale della piazza dedicato alle farfalle. E per i fiori, il tema centrale è stato naturalmente la rosa in omaggio all'antica tradizione della festa del Bocolo. Il Consiglio Comunale veneziano ha approvato un nuovo regolamento per il commercio, valido nelle maggiori aree di flusso turistico, negli edifici culturali e in tutto il sestiere di San Marco. Le norme mirano alla tutela dei caratteri ambientali e del tessuto storico della città, tra cui anche la tutela dell'immagine di Venezia, della sua identità storica. E così, negli esercizi commerciali che si affacciano appunto nelle aree di flusso pedonale intenso o in quelli a tutela culturale di San Marco, non è più consentito l'insediamento e il trasferimento di attività del settore alimentare, tranne che per macellerie, panificazioni, pasticcerie, gelaterie, nonché ortofrutticoli e pescherie. Non saranno consentite nemmeno lavanderie, gettone o gli sportelli ATM, dove cioè non è prevista la presenza di nessun addetto. Le violazioni comportano l'immediata chiusura dell'attività e una multa che può arrivare anche a 15.000 euro. La città metropolitana di Venezia, nell'ambito del progetto europeo Icarus, ha portato a termine tre azioni per il miglioramento dei collegamenti intermodali, l'acquisto di due rimorchi portabiciclette per un totale di 30 posti, lo sviluppo di una piattaforma informatica che dia notizie di incidenti e trasporti e in più l'ottimizzazione di un tratto ciclabile sul fiume Edese lungo la provinciale Altinia. Quindi i ciclisti e cicloturisti potranno percorrere gli itinerari ciclabili verso l'itolare e tornare poi comodamente in autobus. Tutte azioni dicono dalla città metropolitana che stimolano il cambiamento delle abitudini degli utenti in favore di una modalità di trasporto rispettosa dell'ambiente. I finanziamenti sono arrivati dai fondi europei tramite il progetto Interreg Italia-Croazia. E sono stati presentati oggi in conferenza stampa tenuta nell'hotel The One di Kaorle i dati previsionali per l'estate 2022 della costa del Veneto, dati anche riferiti a quest'ultima Pasqua che ha fatto registrare una occupazione alberghiera superiore a quella del 2019. Per il 2022 il trend si conferma buono e i turisti che hanno già prenotato arrivano dall'Italia, dalla Germania, dall'Austria e dalla Svizzera. Sentiamo. Noi abbiamo avuto su circa 830 alberghi complessivamente su tutta la costa Veneta abbiamo avuto una parte di questi, non significativa ma intorno al 30%, che hanno aperto per il periodo pasquale registrando dei numeri estremamente interessanti in termini di occupazione. Il problema adesso è arrivare fino all'inizio della vera e propria stagione che quest'anno si delineerà intorno dal 20-21 di maggio in poi con il picco verso la 15 di giugno in concomitanza con le festività tedesche quindi l'ascensione della Pentecoste e il Corpus Domini che vedranno arrivare, finalmente insomma ritornare sulle nostre spiagge il numero significativo di turisti provenienti dalla Germania e dall'Austria che per noi è un mercato estremamente importante. Ma sulla costa stiamo registrando sicuramente una buona pressione della domanda in particolare si è aggiunta a quella del mercato estero, a quella del mercato italiano che già l'anno scorso avevamo visto restare all'interno del nostro Veneto. Abbiamo circa un 8-9% in più mediamente di occupazione rispetto al dato del 2021 con un picco ben più alto, intorno al 15-18% sul mese di giugno proprio in concomitanza delle festività tedesche. Questo è un dato ovviamente in costante evoluzione perché abbiamo una finestra di prenotazione molto sottodata e di conseguenza più sottodata arriviamo e più questa percentuale sale. Dopo due anni di pandemia ritorna anche la tradizionale corsa o passeggiata non competitiva veneziana, la sua esò per i ponti. Domenica 15 maggio i partecipanti potranno scegliere tra due percorsi, quello completo lungo 11 km con 39 ponti che prevede partenza e arrivo in piazza San Marco e un punto di ristoro poi anche in via Garibaldi a Castello. E quello invece più breve di 5 km, 18 ponti riservato soprattutto alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie che partirà dal porto di Venezia per concludersi sempre in piazza San Marco. Orario di partenza scaglionato dalle 9.30 alle 11.00. Prima però alle 8.30 Donigino Biffi celebrerà una santa messa nella Basilica di San Marco. Al momento sono 5.000 gli iscritti ma c'è tempo fino all'8 maggio. Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto a favore della missione salesiana in Perù. Passiamo alla cronaca. Ieri mattina una 53enne è morta a seguito di un'aggressione avvenuta nella tarda mattinata di sabato mattina in un appartamento sociale di Marostica, Vicenza, dove vivevano due donne con problemi psichiatrici. Lisa Paiaro Bernato, la 54enne originaria di Noale, alle 12.45, ha chiamato il 112 dicendo di aver ucciso la coinquilina Maria Cristina Cavedon, colpita al cuore e al collo con un coltello. La vittima è infatti stata trovata con evidenti ferite da taglio. Sull'accaduto è intervenuta anche l'ULS 7 Pede Montana, comunicando che le due donne erano seguite da anni dal Dipartimento di Salute Mentale, vivevano insieme da anni monitorate e non avevano mai dato segni di aggressività o di violenza. Addirittura l'ultimo ricovero dell'autrice dell'omicidio della Noalese risale a quasi 20 anni fa. Il 1 maggio alle ore 19 si potrà assistere al concerto Musica per la Pace al Teatro La Fenice di Venezia, protagonista sarà la National Symphony Orchestra of Ukraine, la più prestigiosa orchestra ucraina. Al concerto potranno assistere gratuitamente i residenti della città metropolitana di Venezia, si tratta di un messaggio di pace e di un appello di cessate del fuoco. A mercoledì invece 11 maggio alle ore 16.30 al Parco Piraghetto di Mestre, per l'iniziativa chiamata Il Parco dei Diritti, chi si cura di me, la salute dei bambini, vi saranno un laboratorio artistico ricreativo sul benessere generato dalla natura, a cura di Silvia Cagnatelle e dell'associazione Il Barattolo, e poi una videoproiezione delle attività dell'organizzazione Stila Rise, oltre poi a letture per adulti e bambini tratte dai testi di Niccolò Govoni. E per finire allo sport, domenica, al Tagliarcio, la Reier si è riconfermata di nuovo una garanzia, vincendo il derby contro Treviso per 78 a 68, e conquistando in solitaria il quarto posto della classifica, è stata la sesta vittoria consecutiva per la squadra di coach De Raffaele, detrainata da uno strepitoso Brooks. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per essere stati con noi, vi segnalo la nostra email, che è appunto venezia-cafeetv24.it Continuate a rimanere qui, nel nostro canale. Grazie, arrivederci.